La microbiopsia è un esame che viene eseguito ambulatorialmente sotto guida ecografica. In particolare la paziente viene posizionata nella stessa posizione di una semplice ecografia dunque supina o sul fianco, si procede dapprima a localizzare la lesione sotto guida ecografica e successivamente si effettua dapprima l'anestesia locale e dallo stesso punto dell'anestetico entriamo con un aghetto leggermente più grande che ci consente di prelevare dei veri e propri frustoli di tessuto che fissati in formalina vengono poi inviati all'anatomopatologo per l'esame istologico. Questo ci consente sia una diagnosi di natura del nodulo dunque di identificare noduli benigni e maligni e nel caso poi specifico dei noduli maligni ci consente anche di effettuare ulteriori valutazioni che sono poi fondamentali per il successivo iter terapeutico. La durata dell'esame è di circa 15 minuti, successivamente la cosa più frequente che succede è che si forme un piccolo livido nella zona del prelievo che la paziente può gestire tranquillamente a casa eventualmente apponendo un po' di ghiaccio secco e nei giorni successivi evitando soltanto di effettuare grossi sforzi con le braccia e indossando sempre il reggiseno per evitare una mobilizzazione eccessiva del seno. Il materiale prelevato viene fissato in formalina ed inviato all'anatomopatologo per l'esame istologico. In particolare l'anatomopatologo ci darà dunque informazioni sia sulla benignità o malignità della lesione sia potrà effettuare analisi quali ad esempio la valutazione del grado tumorale, l'espressione di recettori che sono poi fondamentali anche per la pianificazione del successivo iter terapeutico.